Raffaella Mennoia, chi è l'amica di Maria De Filippi sempre al suo fianco? Maria De Filippi sta ovviamente affrontando un momento molto difficile, dopo aver detto addio al marito Maurizio Costanzo. E' possibile notare, però, che sia durante i funerali sia nei momenti della camera ardente, la conduttrice aveva sempre un'amica al suo fianco, che l'ha accompagnata ovunque. Si tratta di Raffaella Mennoia, un personaggio che probabilmente i telespettatori di Canale 5 ricordano già. La Mennoia, nata a Roma nel 1974, è un'autrice televisiva e collaboratrice di Maria De Filippi, da molto tempo. Lavorando dietro le quinte a uomini e donne, spesso compare alla fine della trasmissione, per lanciare dei messaggi e quindi il pubblico, la conosce già per questo. Dal 2007 al 2013 è stata fidanzata con il tronista Jack Vanore, conosciuto proprio a uomini e donne. Da quel momento in poi non si è mai allontanata, dal mondo del dating show per il quale ha continuato a lavorare. Da un po' di tempo è felicemente fidanzata con Alessio Sacara, e i due hanno un pitbull di nome Saki. Anche il cagnolino è già conosciuto dal pubblico perché spesso compare nelle trasmissioni di Maria, come C'è posta per te. L'amicizia tra Raffaella Mennoia e Maria De Filippi va avanti da molto tempo, motivo per cui Raffaella non è voluta mancare, durante un momento così importante per la conduttrice. Inizialmente Raffaella e Maria si sono conosciute perché la prima era una delle postine di C'è stata per te. Quindi è iniziata da lì la loro amicizia, che si è poi intensificata quando la De Filippi ha deciso di chiamarla a uomini e donne. La Mennoia è diventata in fretta una delle collaboratrici più strette di Maria, ed ancora oggi è principalmente lei, a muovere i fili del dating show. La stessa conduttrice aveva raccontato che negli anni passati si era dovuta sottoporre ad un intervento alla tiroide, per problemi di salute. Ma Raffaella era sempre stata al suo fianco, in quel momento difficile. Il loro legame è diventato sempre più importante nel corso degli anni, ed ormai è tanto tempo che le due si conoscono. Per questo motivo Raffaella c'era ai funerali insieme a Maria, ed in tutta probabilità continuerà a sostenerla, anche in futuro. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Raffaella Mennoia ed avevate notato, che era sempre presente con Maria, in questi giorni difficili? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Noi, grazie per la